stelle ma è andato via Samir? Andanovic? Andato via veramente? Cazzo, aspettavo in attimo perché ancora non abbiamo le idee, abbiamo le idee un po' confuse, arriva Sommer? Comunque anda, grazie per questi 11 anni quando sei stato con lì, a parte ultimamente le parate laser ma sei stato sempre un professionista serio dentro e fuori dal campo, quindi su questo ragazzi ed è stato pure un gran portiere, ultimamente vabbè l'età, ma ragazzi però è stato un gran portiere e Samir meritava qualche bel trofeo nel suo albo perché veramente, grazie Samir, un abbraccio, purtroppo quello in panchina cosa vuoi farci? Dobbiamo assorbirci ancora un po', se fosse per me era già a casa dopo aver perso lo scudetto, per due punti, io la penso in questo modo, grazie Samir Andanovic, grazie Stella, grazie.